Marco Podrasianin, allora, è la maniera migliore per ripartire questa, no? In questo quarto di finale di Coppa Italia, missione compiuta, gara non difficilissima, il vero avversario era la grande tensione che c'era prima di questa partita. Sì, sì, diciamo che abbiamo fatto una bella partita, soprattutto qua a Palazzetto Nostro, davanti al pubblico nostro, dove non abbiamo perso fino adesso. Spero che continuiamo così, no? Per questo periodo, dopo le due brutte scofite contro a Piacenza e a Perugia, tre giorni fa, l'unica medicina che deve essere la squadra sono le vittorie. Diciamo che in casa la Lube non ha mai tradito in questa stagione, finora? No, come dicevo prima, si vede tanta differenza tra quando giochiamo fuori a casa e quando giochiamo qua, davanti al pubblico nostro. Dobbiamo cambiare questo atteggiamento, se vogliamo fare di più, se vogliamo arrivare fino a fine, come sicuramente è il nostro obiettivo questo anno. Intanto è arrivata questa final 4 di Coppa Italia, ci sarà la rivincita della gara di campionato contro Perugia? Sì, ma è troppo presto ancora per parlarci, perché ci serve ancora un mese, mezzo, due mesi fino a Bologna, no? Quindi abbiamo tante partite in campionato, dobbiamo rimanere sempre sul primo posto che è il nostro obiettivo e dico che forse ad oggi abbiamo cambiato tutto e abbiamo iniziato ancora a vincere come eravamo strada prima. Grazie.